Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi, che giorno è? 28 dicembre, vediamo subito i temi sui giornali, sono abbastanza col cervello ossigenato, perché questa mattina mi sono fatto un'ora alle sette e mezza di sci, fantastica, con un sole che potete vedere qua dietro, quindi i giornali li ho letti un po' in seggiovia, ma soprattutto grazie all'ossigenazione sono riuscito a capire bene che cosa sta succedendo in Italia sulla vicenda Fioramonti. Il titolo migliore sul ministro dell'istruzione che se ne va dal governo e vorrebbe fare dei gruppi a favore del Presidente del Consiglio di questo governo, che è già una cosa che sembra uscita da un film di Checco Zalone, di cui parleremo tra poco, insomma il titolo più azzeccato lo fa libero, nel partito degli onesti scatta la rissa sui soldi, avete capito? Nel partito del Movimento 5 Stelle, del Restitution Day, di tutte quelle robe là, uno vale uno, tutte queste robe che facciamo finta di esserci dimenticati, nel partito del Vaffa, per cui il Presidente del Consiglio, eletto grazie al partito del Vaffa, che è il primo partito italiano, dice ci vuole più garbo nella politica, ma come? Sei il rappresentante del partito del Vaffa, ma di che stiamo parlando? Insomma, in questo partito si fa una grande battaglia sui soldi e la tira in maniera esplicita oggi sui giornali attraverso un post su Facebook, Paragone, senatore sempre del Movimento 5 Stelle, che fa la lista di tutti quelli che non hanno ancora restituito i soldi al partito, tra l'altro siccome Paragone scopro che vorrà e può essere espulso dal Movimento 5 Stelle, non se ne farà un dramma immagino Paragone, insomma anche perché ha cambiato talmente tanti cappelli nella sua vita che può cambiare anche questo, insomma Paragone dice una cosa sacrosanta, e cioè dice scusatemi ma com'è possibile che il Ministro Dadone, abbiamo un Ministro che si chiama Dadone, che ha detto del Ministro Fioramonti che il vero coraggio è restare e non andarsene via vigliaccamente, bene, come mai il Ministro Dadone così come Fioramonti non ha restituito i soldi alla Casaleggio e Associati? Insomma è una battaglia, come dice Bene Libero, su questi che dovevano restituire i soldi per loro volontaria scelta al partito e che non li restituiscono. Guardate, il prossimo passo è fatto, è scritto, vi ricordate il vincolo per cui soltanto due mandati potrebbero fare i parlamentari Movimento 5 Stelle? Cancelleranno anche quello, veramente credete che Fico, Di Maio, Lalezzi e compagnia cantante non si ricandideranno la prossima volta? Vedremo, secondo me loro sono straordinari nello smentire le grandi e rigorose regole che si sono dati per prendere voti e poi una volta che i voti li hanno presi le smentiscono come tutti i politici. Fioramonti dice non c'è trasparenza nella Casaleggio e Associati e per questo non li pago, ma insomma sei stato eletto con la Casaleggio e Associati, sei diventato Ministro con la Casaleggio e Associati, è una cosa straordinaria. Buffagni, un altro Movimento 5 Stelle, gli risponde oggi sui giornali e gli dice lascia il movimento. L'altra cosa straordinaria è che sarebbe in corso la nascita, ne avevamo parlato anche ieri del partito di Fioramonti, quello che voleva prendere, e che vi ricordate, boicotta Israele, le tasse sulle merendine, se fate sciopero ragazzi il venerdì non c'è problema perché è tutto giustificato dal Ministro, quello che disse che voleva che il paese che lui sognava, Fioramonti, si è dimesso, ma è l'uomo che un tweet scrive il paese in cui sogno è il paese in cui Brunetta viene preso a manganellate dai carabinieri, questo è che si è dimesso. Bene, questo vorrebbe fare un partito, il partito si dimette dal governo Conte, un partito che appoggia il governo Conte e questo partito avrebbe già 5-6 parlamentari che andrebbero con un piccolo problema alla Camera, per fare un gruppo parlamentare ce ne vogliono 20 e il Presidente della Camera, Fico del Movimento 5 Stelle, dovrebbe decidere che il suo, in questo momento diciamo, rappresentante eterodosso faccia un movimento che entrerà nel misto, punto a capo. Oggi lo Papa ci spiega come ieri Conte abbia detto, Conte stiamo parlando di un personaggio che è diventato una specie di icona della politica italiana, da Andreotti a Kraxi a Berlusconi a D'Alema a Conte e Conte dice non vuole che si facciano dei gruppi parlamentari in nome mio perché destabilizzerebbero il governo, l'unica cosa che Conte sa è che il suo poltrona è l'unica cosa che conta e tutto ciò che destabilizza la sua poltrona, financo l'uomo che esce dal governo contro la manovra del governo che lo vorrebbe appaggiare, già una cosa che secondo me è incredibile, insomma financo questi gruppi parlamentari lui non li vuole. Vi segnalo un pezzo che ho letto sul Libero straordinario che i grillini sarebbero in fila con altre 25 mila persone per diventare funzionari della Camera, cioè gli stessi i deputati stanno facendo il concorso pubblico per diventare funzionari della Camera, cioè il Presidente della Camera Fico avrà una parola in ordine a questo concorso immagino e in questo concorso partecipano dei parlamentari che vogliono comunque trovare un modo di occuparsi, visto che erano arrivati là uno vale uno con questa grande esperienza dell'inesperienza, insomma vogliono trovare una soluzione. Ieri la cosa importante che oggi tutti quanti i giornali citano è l'omedia del sacerdote per la morte delle due ragazze investite a Roma dal figlio del regista genovese e questa omedia a me mi ha fatto orrore, orrore! Sapete perché mi ha fatto orrore? Perché il prete dall'alto del suo pulpito dice il senso della vita non è guidare sbronzi, ma che sta dicendo questo prete? Cosa dice questo prete? Lui pensa veramente che a un ragazzo che investe due persone e che agli arresti il senso della sua vita era guidare sbronzo, ma quale ipocrisia ha questo sacerdote? Da quale cazzo di pulpito parla questo sacerdote? Mi sembra molto più serio tutto quello che reggo nella cronaca, ha arrestato questo ragazzo che non ha usato droghe e che ha bevuto più del dovuto, ma chi di voi direbbe il caro amico del sacerdote Bergoglio quando si parla di gay, ma anche di ubriachi, anche di eterosessuali, anche di peccatori, chi di voi può scagliare la prima pietra? Chi di voi può scagliare la prima pietra di essere andato a Corso Francia a più di 50 km all'ora? Perché questa è la realtà, non la può scagliare certamente una delle amiche delle due morte, uccise sempre dal figlio del regista, che pagherà per quello che ha fatto, è innegabile che pagherà, in cui oggi in un'intervista una di queste ragazze dice sì, tante volte abbiamo scavalcato il guardraite e è passato col rosso non sulle strisce pedonali, la nostra non era una sfida, dice l'amica delle due vittime, ma la nostra era un senso di, come possiamo dire, aspettate che ve lo voglio leggere bene, non era una sfida, ma era una leggerezza e un azzardo, allora la leggerezza e l'azzardo di due persone che passano mano nella mano di notte a mezzanotte, mentre piove, in una strada che si sa che è una strada di largo scorrimento, non sulle strisce, scaricata oltre il guardraite, con rosso, passano e qualche leggerezza, forse le attribuiamo anche loro, toc toc sacerdote, il senso della vita è passare con rosso? Il senso della vita è scavalcare il guardraite? Il senso della vita, direbbe Vittorio Feltri che oggi scrive un fondo sul libero dicendo totalmente innocenti purtroppo non sono anche loro, certamente non è innocente chi la investite, ma totalmente innocenti non sono neanche loro, il senso della vita, caro sacerdote e alle 16 e due ragazze di 16 anni a mezzanotte girare da solo per Corso Francia? No, questo poi magari io non voglio sembrare un conservatore bacchettone, però insomma magari un po' come dice Feltri, poniamocelo questo dubbio, un amico invece che stava davanti al ragazzo genovese, al giovane assassino purtroppo, dice in realtà la dinamica è andata molto semplice, cioè una macchina si è fermata e noi eravamo sulla nostra destra, quindi queste ragazze sono sbucate e noi non le abbiamo potute vedere, peraltro questa macchina si è fermata inchiodando perché aveva visto evidentemente le ragazze, forse era davanti a loro, forse andava piano, forse non aveva un tasso alcolico superiore, tutte cose che giudicare erano i magistrati, ma questa è una storia molto più complessa di come il cattivo figlio del regista e le buone fanciulle per cui si è riempito la chiesa e degli altri 14 morti alla settimana che ci sono di pedoni, le chiese non si riempiono, è il fenomeno italiano, oggi attenzione a tutti quanti voi perché ci sarà la conferenza stampa di Conte e nessuno se la può perdere, fantastico oggi Polito che dice Conte e ha ragione, Trump è Giuseppi, perché c'è un Giuseppi 1 e un Giuseppi 2, un Giuseppe 1 e un Giuseppe 2, del Giuseppe 1, quello del primo governo bisogna solo ricordare il fatto che grazie a Salvini e al suo ministro degli interni, innegabilmente dice Polito sul Corriere della Sera, è stata fermata l'emergenza in migrazione e l'Europa non si poteva più voltare dall'altra parte, il Giuseppe 2 invece ha dato un senso di maggiore stabilità e più collante con l'Europa, ma ci sono due Giuseppi, uno completamente diverso dall'altro, uno che smentisce l'altro, fantastico la proposta sulla prescrizione oggi del PD che fa il PD in cui vengono cambiate, fa un disegno di legge che è presente in Parlamento per cui si bloccherebbe questa idea folle di questo governo, passato governo, lega Movimento 5 Stelle, che ha fatto sì che dal 1 gennaio ci sia la fine della prescrizione anche se assolto in primo grado, io vado in primo grado, vengo assolto, bene, la prescrizione finisce, non c'è fine vita mai, fine pena mai, fine processo mai, financo d'assolto, il PD ha fatto una legge, un disegno di legge che modifica in parte questa norma, fa sì che la prescrizione resti anche dopo primo grado e soprattutto la prescrizione ci sia se si è assolti, è una cosa un po' tecnica di cui non vi vado a spiegare i dettagli, ma comunque è un passo indietro rispetto allo spazzacarrotti secondo Travaglio e tutti i giustizialisti, mentre Forza Italia, PD e un'altra parte e certamente parte della Lega voteranno a favore di questo disegno di legge, ma l'unico che non si è accorto di cosa stiamo parlando è Marco Travaglio, perché oggi essendo legittimamente contrarissimo a questa roba ed essendo lui l'ispiratore della prescrizione che non deve finire mai, non si accorge che prende in giro il PD perché dice è un PD dadaista, fa queste proposte e non le presenta neanche in Parlamento, toc toc, Travaglio l'hanno presentata alla Camera, ancora non al Senato, ma l'hanno presentata, quindi magari informati prima di leggere e poi scrive una cosa stupenda, Travaglio, io la trovo fabolosa, la parola prescrizione, scrive il fatto quotidiano è la più detestata d'Italia dopo Renzi, forse ha un'idea dell'Italia un po' diversa rispetto a quella che è l'Italia, converrebbe che oltre ad andare alla barchetta a ballare con le sue amiche e a cantare, forse si occupasse anche di quello che succede più che nel centro di Roma, anche nel mondo normale, la prescrizione temo che non sia neanche tanto conosciuta dagli italiani come frase, poi non so se la più odiata o la più amata, ma non penso che sia così conosciuta nella sua realtà. Senaldi oggi sul Libero invece ci spiega che anche la destra, anche Senaldi, anche Libero, anche le opinioni di centrodestra, in realtà questa proposta del PD viva e vegeta lì presente in Parlamento, dice è da votare. Su Zalore hanno visto tutti i giornalisti fortunati il loro primo film e qui ci sono due commenti da raccontare. Il primo è dell'Aspesi che come al solito dice, fa finta di scendere dal pero e dice il film non c'entra niente con il trailer e quindi dice quelli che se l'erano presi col trailer perché era troppo sovranista contro i neri, contro le donne e a favore dei cliché se vedessero il film capirebbero che il film dice tutt'altro, cosa che peraltro dice anche Cinzia Romani oggi sul giornale e dice guardate che questo film è il film più terzo mondista che possiate immaginare, non fa neanche tanto ridere e potrebbe averlo scritto Bergoglio, ma il punto fondamentale è che la critica dell'Aspesi a quelli che hanno creduto al trailer è che bisognerebbe farla proprio a casa sua, a questi cazzoni che sono caduti come dei pesci nella trappola di Zalone, che è una trappola di marketing puramente commerciale perché vuole fare soldi, lui come direbbe Mahmood vuole soldi, soldi e soldi e per far parlare di sé si è inventato un trailer che non c'entra nulla col film e che lo dipinge il sovranista, mentre il film è esattamente il contrario, quindi grandissimo genio come togliere soldi ai cazzoni che credono ai trailer di Zalone. L'ultima cosa è sul Sole 24 Ore, ve la segnalo, oggi in Italia esistono, dopo la manovra finanziaria, è una piccola cosa ma vi fa capire l'impossibilità di fare business in questo paese, dieci misure diverse di agevolazione per le assunzioni, se sei giovani al sud o nel resto del paese, se sei lavoratore in cassa integrazione, se sei donna, se sei disoccupata, se sei imprendista, se ti assumo con delle lauree eccellenti, c'è pure un'agevolazione per chi prende 110 e lode, questo è il paese che è fatta da corporazioni di sfigati, cioè se tu sei sfigato A hai il 20% di sconto, sfigato B il 30%, sfigato C, questo è un paese in cui ci vuole un commercialista ma con i controcavoli per assumere un commercialista, un legale, per capire qual è l'agevolazione che posso dare per assumere una persona. Voi siete matti, voi siete matti, è l'ultra 65enne che vuole ancora lavorare, o il licenziato 50enne che vuole lavorare, o il disabile che vuole lavorare, o il cagliaritano che ha la mamma veneta che vuole lavorare, facciamo categorie per tutto, in questo mondo di corporazioni non si capisce che il lavoro non si crea dando piccoli sussidi a piccole categorie, piccole defiscalizzazioni a piccole categorie, 10 diverse defiscalizzazioni che vengono date in Italia per creare lavoro, facciamo pagare meno tasse a tutti, facciamo pagare meno cuneo fiscale a tutti e non inventiamoci queste piccole prebende per le categorie considerate protette, tanto qualcuno ci rimane sempre fuori o qualcuno c'entra non meritandolo. Vi do un grande abbraccio a tutti quanti voi, vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani, ciao!